Siamo in collegamento telefonico con Eraldo Pecci, un doppio ex di Fiorentina e Napoli, parliamo della Coppa Italia, su fanpage lo facciamo appunto con Eraldo Pecci. Ben ritrovato! Buongiorno! A poche ore alla grande sfida di Coppa Italia, che partita si aspetta, che partita sarà? Sarà una partita secca, una partita per la quale non c'è l'esame di riparazione, è una partita che è aperta chiaramente a qualsiasi cosa, perché un episodio, un espulso, un ripallo, un portino, un chiesce e travolge un avversario, però sono due squadre che si meritano questa finale, una perché hanno fatto delle loro identità, il giocare a calcio è una cosa importante, cercare di giocare, di proporre. E sono le sorpresi di quest'anno, assieme alla Roma, che sono due squadre più propositive, hanno iniziato un percorso di crescita e questa è la proposta che potrebbe incentivare e continuare su questa strada. Io credo che ci arrivi un attimino meglio la Fiorentina, ma è una sensazione personale, non supportata da motivi tecnici. la Fiorentina viene dal campionato dove ha sofferto molte infortuni, ha sofferto molti problemi, per cui sta trovando adesso la sua chimica migliore, secondo me, mentre l'Apoli ha fatto un campionato migliore, la classifica in questi due anni, ma credo che non sia in nessun momento migliore. Per cui, nel partito del partito, ripeto, ma io come sensazione vedo un attimino l'antesata la Fiorentina. Ecco, nella Fiorentina potrebbe essere convocato anche Pepito Rossi, mentre il Napoli ritrova Higuain, due grandi protagonisti di questa finale. Beh, io credo che è una partita sempre di grandi giocatori, sì, possono fare differenze sempre, però, come ho detto prima, ci sono molte strade sulle quali si può camminare il mese. Io credo che parlare sempre di questi giocatori più conosciuti, insomma, una mancanza di rispetto soprattutto. Il gruppo che comunque ha contribuito a fare questo cammino, se ne se la sono visto, voglio dire, noi, anche in queste coppe europee, e magari fanno quella anche i secondi, magari fanno quella che era per l'Amos, se non lo fa Ronaldo, non lo fa Benvenna, la faccio per dire, no, però la squadra ferita finale vuol dire che c'è una forza da parte di tutti. L'ultima domanda da Gerardo Pecci sulla finale di Coppa Italia. FIorentina-Napoli è anche una sfida tra due presidenti molto calorosi, da una parte della Valle e dall'altra dell'Aurentis. Qual è il presidente che la convince di più? Non ho signorato il presidente, non so come si sa il presidente, non credo stermi a fare questa valutazione, voglio dire. Sono due progetti importanti, due città importanti, entrambi hanno investito, entrambi hanno cercato di far crescere la squadra e le finali, voglio dire, cominciare a venire qualche titolo, qualche perfetto potrebbe ancora aiutare il centenario per questo percorso, però credo che non stia a me, insomma, a giudicare uno che è stato presidente, non so come aver cominciato. Ringraziamo Eraldo Pecci, grazie mille, a presto su Fanpage. Prego, arrivederci, arrivederci.